Bene, buon pomeriggio a tutti, ringrazio la dottoressa del chiaro dell'introduzione, ringrazio la scuola di ingegneria per questa serie di seminari che ci ha proposto di fare, cui ho aderito con voglia e con anche una certa emozione in qualche modo, perché bene o male non molti anni fa mi trovavo nella condizione in cui sono i ragazzi che seguono adesso e che seguiranno poi questi seminari in differita quando saranno pubblicati e quindi in qualche modo in parte mi sento un po' coinvolto, quindi ringrazio la scuola e ringrazio soprattutto i ragazzi che avranno la voglia di seguire quello che a breve inizierò a raccontare. Presento nuovamente, sono Francesco Bucchi, sono docente di costruzioni automobilistiche alla laurea magistrale in ingegneria dei veicoli, quindi laurea magistrale significa quello che verrà dopo i primi tre anni da triennale, quindi probabilmente a breve non mi vedrete per coloro che vorranno poi iscriversi effettivamente ai corsi di laurea di ingegneria dell'Università di Pisa, però diciamo cercherò di fare una panoramica su quello che è un argomento che ritengo che possa essere una passione un po' per tanti, ma che appunto se ne sente parlare molto, che appunto sono le automobili con tutto e le novità e le nuove tecnologie che vengono proposte e raccontate ogni giorno, cercando però di dare un senso un po' ingegneristico alla cosa, anche facendo riferimento a quelle che sono già le vostre conoscenze magari di matematica o di fisica, perché poi alla fine è ingegneria e bene o male si parte da quello e poi si approfondisce. Quindi progettare e produrre un'automobile sicuro e sostenibile, vedremo le opportunità e i limiti legati alle nuove tecnologie, ovviamente non tutti, ne ho scelti alcuni che reputo l'interesse, quelli anche più vicini a quello di cui mi occupo e che insegno nei miei corsi. Quindi io appunto ho la mia formazione, mi sono lavorato in ingegneria meccanica presso l'Università di Pisa nel 2007, successivamente ho seguito la laurea specialistica all'epoca di ingegneria dei veicoli, sempre presso l'Università di Pisa dove poi ho svolto il dottorato e durante il dottorato ho avuto anche il piacere di fare un'esperienza all'estero negli Stati Uniti dove mi sono occupato di materiali intelligenti e dal 2016 sono appunto titolare del corso di costruzione automobilistica presso la laurea magistrale in ingegneria dei veicoli, di quella che appunto qualche anno prima avevo seguito. Bene, quindi per iniziare questo seminario io mi sono posto nell'ottica, provate a pormi nell'ottica vostra, cioè ho ripensato a come ero io 17 anni fa fondamentalmente. Mi ricordo che seguì una giornata di orientamento e avevo qualche capello in più di ora e era un po' più giovane, però mi posi già una questione che ritengo ancora abbastanza interessante oggi e quindi è quella da cui vorrei partire. Già chiesi, avevo già in qualche modo l'idea di iscrivermi in ingegneria meccanica, però appunto avevo qualche dubbio del fatto, ma l'ingegneria meccanica nel 2004, ma è vero anche nel 2021, anzi forse a maggiorazione, ha ancora senso vista l'espansione dell'elettronica, il fatto che le energie non rinnovabili dovranno pian piano essere giustamente eliminati, visto l'avvento della propulsione elettrica, ha ancora senso oppure è un qualcosa di desueto? Ecco, quello di cui vorrei parlare oggi è come per me abbia ancora senso, come non sia un qualcosa che si integra insieme a queste nuove tecnologie, come appunto possa raccontarvi quello di cui un ingegnere meccanico potrebbe occuparsi, tra le mille cose che si può occupare. Vi invito a fare le domande in chat man mano che andiamo avanti e risponderò alle domande ovviamente tutte insieme o quelle che sarà possibile alla fine e comunque cogliete l'occasione di far domande durante la presentazione in modo da non dimenticarvi cosa volete chiedere. Bene, cosa fa un ingegnere meccanico ad oggi? Che non è uguale a quel che faceva 50 anni fa e non sarà uguale a quel che farà fra 50 anni. Fa un bel po' di cose, si occupa di turbine, si occupa di produzione di materiali, fonderie, si occupa di progettazione e produzione di veicoli. Questa è la macchina da corsa dell'Università di Pisa e abbiamo un team in cui i ragazzi appunto producono, progettano e producono e poi guidano anche quest'auto. Si occupa di robotica, si occupa di trasporti in generale, si occupa di progettazione di componenti, di simulazione, tutti questi bei colori che vedete sono simulazioni di alcuni componenti reali, quali ad esempio in questo caso un motore, riconoscerete chi magari ha già un po' di formazione tecnica delle valvole. La domanda che mi sono posto è, ma un ingegnere meccanico potrebbe fare tutto ciò, poi sa fare tutto ciò e in più lo fa da solo? Ecco, la risposta alla prima domanda è una domanda potenziale e io direi di sì, nel senso che a seconda delle cose in cui si specializzerà, effettivamente può, ha la possibilità di andare a lavorare in tutti questi settori e in molti altri. Tutti gli ingegneri sanno fare tutto questo? No, nel momento in cui mi specializzo, ovviamente seguirò un percorso specifico e quindi farò più alcune cose in meno delle altre. Non lavorerò da solo. Ovviamente tutti questi argomenti che vi ho appena accennato richiede un lavoro di team, sia tra ingegneri, nel mio caso meccanici, ma anche tra ingegneri effettivamente di differenti competenze, di differenti estrazioni. Quindi, passando dall'ingegnere meccanico all'ingegnere automotive, che è praticamente l'ingegnere dei veicoli, quello che ho fatto con la laurea magistrale, di cosa si occupa? Alla fine si occupa di un sistema, che è il veicolo, che racchiude dentro di sé molte, molte, molte branche dell'ingegneria. Si va dall'elettronica, ai motori, ai sistemi elettrici, all'aerodinamica, alla progettazione di componenti meccanici, alle prove su strada e alle prove in laboratorio, e anche alla produzione dei veicoli, cioè come faccio a realizzarlo. In particolare oggi ci occuperemo di alcune tematiche legate ai veicoli, in particolare l'energia, per prima, poi ci occuperemo un po' di cose di cui mi occupo più da vicino io quotidianamente, cioè materiale, progettazione, poi parleremo di produzione, di sicurezza e di sistemi cosiddetti meccatronici. Vediamo cosa vuol dire. In sostanza vogliamo parlare appunto di veicoli, ma alla fine l'auto è uno stratagemma per fare una chiacchierata di argomenti ingegneristici, magari per darvi l'idea di quello che in parte, perché ovviamente non riuscirò a coprire tutto quanto, e non è neanche la mia intenzione, perché non sono certamente onnisciente, però quanto un ingegnere fa nella sua vita. Partiamo dall'energia. Allora, come detto vorrei ricondurmi a cose che in qualche modo sapete, che forse per alcuni potranno essere un po' noiose, per altri potranno essere, ah bene, ma applico effettivamente quello che sto vedendo ad esempio ora nei corsi di fisica che sto facendo alle superiori, superiori che possono essere liceo, istituti tecnici o altre tipologie di istituto. Se non l'ho ancora fatto, nessun problema, all'università si riparte sostanzialmente da zero. Si va un po' più forte rispetto a quello che viene fatto alle superiori, però appunto si riparte, qua c'è un piano inclinato, si riparte dal piano inclinato. Quindi chi ne ha già sentito parlare saprà che cos'è la potenza, e cosa vuol dire dissipare potenza. In sostanza un veicolo nel momento in cui viaggia dissipa potenza, cioè eroga una certa potenza e dissipa una certa quantità di energia. In particolare perché c'è bisogno di potenza da parte di un motore in genere? Perché dobbiamo vincere le perdite dovute all'attrito di rotolamento dei pneumatici, per esempio, o agli attriti interni del motore, per esempio. Poi ovviamente c'è bisogno di potenza quando dobbiamo andare con un'auto in salita, lo sapete anche se ci andate con una bicicletta, ovviamente che è necessario una maggior quantità di energia nel tempo, questa è la potenza. Oppure c'è da vincere anche le perdite dovute all'aerodinamica. Qui vi ho messo qualche formuletta per farvi capire che appunto non sono cose di cui si parla soltanto, ma sono cose dietro alle quali appunto le prime due riconoscerete che sono molto vicine a quanto avete visto, ad esempio per il piano inclinato. Quindi bene o male le conoscenze di fisica sono la base insieme alla matematica dell'ingegneria. E già qui da queste tre piccole semplici formulette, se io le sommo, ottengo la potenza che un veicolo dissipa a velocità costante, che come vedete è una funzione, una funzione che ha un termine proporzionale alla velocità e un termine che va col cubo della velocità. Non starò tutta la presentazione sulle folie, tranquilli, però giusto per far capire che la fisica ha una certa importanza. Quindi se io faccio il grafico di questa funzione, vedo che la potenza cresce in maniera più che lineare, cubica, con la velocità e sarei portato a pensare che quando vado lento, cioè nel percorsi urbani, la potenza richiesta è molto poca. In realtà se vado a vedere i consumi di alcuni modelli di auto, questa è una tabella abbastanza recente, ho messo tutte le fonti, i link da cui ho preso le varie informazioni, quindi potete anche ritrovarveli, e vedete che in realtà, e forse già lo sapete, che un'auto consuma maggiormente nel ciclo urbano rispetto all'extraurbano o al misto. Quindi c'è qualcosa di strano, perché sembrerebbe che la potenza è dissipata maggiormente quando il veicolo va veloce. Come mai? Il motivo fondamentalmente legato al fatto è che quando un'auto si trova in città continuamente accelera e frena. E sapete bene che accelerare e frenare significa cambiare la velocità del veicolo e quindi cambiare l'energia cinetica. Appunto la variazione di energia cinetica, sapete bene, nel tempo, diviso per il tempo, appunto mi dà la potenza che è richiesta ad esempio per accelerare un certo veicolo. Facciamo un esempletto semplice, semplice. Pensiamo a un'auto, mi sembra di 1200 kg, ho fatto qualche conto per mettere dei numeri, che raggiunge una velocità di 50 km orari in 5 secondi. Bene, quest'auto ha bisogno di una certa potenza media in questi 5 secondi per vincere che cosa? Le perdite dovute al rosolamento, la pendenza, se c'è, qua supposto una partenza su una certa salita, l'aerodinamica, ma soprattutto per variare la propria energia cinetica. Se moltiplico questa grandezza per il tempo, dalla potenza passa l'energia. Questa energia è persa totalmente, bisogna distinguere. L'energia relativa al rosolamento dei pneumatici, alla pendenza, all'aerodinamica, sì, questa è persa, non la posso recuperare, ma l'energia che mi è servita per accelerare il veicolo. In realtà io in qualche modo la posso recuperare. Come posso recuperarla? Frenando. Frenando con un sistema che, attenzione, non è il classico freno a disco o a tamburo che c'è su tutte le auto fino a qualche anno fa, ma fare una frenata di tipo rigenerativo. Frenata di tipo rigenerativo che mi permette di utilizzare un motore elettrico per rallentare il veicolo e quindi recuperare, vedete, cambiato il segno, questa energia. In realtà non riesca a recuperare tutta questa energia, però una buona parte con i veicoli elettrici con rigenerazione in frenata effettivamente riesca a recuperarla. Cerchiamo di capire intanto come la si recupera e poi appunto perché non riesca a recuperare tutta questa energia. Allora, come funziona uno dei mille sistemi esistenti di auto, in questo caso ibrida, che ha un certo sistema di recuperare l'energia in frenata? Fondamentalmente abbiamo un motore elettrico, un albero, un asse cui è connessa la trasmissione del veicolo, quindi il cambio e tutto quanto, che succede? Questi due elementi sono connessi da una cinghia, questa cinghia a seconda del fatto che il veicolo stia accelerando o decelerando, trasmette energia dal motore elettrico all'albero di uscita che poi è connesso alle ruote del veicolo e quindi in parte genera energia e in parte la recupera. Recuperando energia vado a caricare una batteria. Perché non riesco effettivamente a recuperare tutta l'energia che ho a disposizione? Facciamo un esempio semplice. Qualcuno di voi avrà a casa probabilmente un inverter con cui magari che ricarica il cellulare quando si trova in giro oppure magari, non so, si accende le luci se ha una casetta in campagna dove non arriva l'energia elettrica. Bene, questo inverter che cosa fa? Prende energia da una batteria e la trasforma da energia in corrente continua a, diciamo, l'energia elevata in corrente alternata, questi sono dettagli, riesce ad accendere una mappadina. Ma che succede se io prendo la mia batteria, la collego appunto a questo inverter che in uscita mi dà una corrente alternata, quindi una certa corrente che potrei utilizzare per accendere una lampadina, anziché accenderci una lampadina la collego a un carica batteria che a sua volta ricollega la batteria. Questo è una cosa totalmente inutile, però effettivamente potrei dire bene, crea un sistema in cui sostanzialmente faccio circolare continuamente energia e non dovrebbe cambiare nulla nel tempo. In realtà purtroppo non è così. Se io vado a misurare l'energia immagazzinata in una batteria nel tempo, vedrò che questa diminuisce. Diminuisce perché? Perché tutte le volte che si converte energia da una sorgente, da una fonte a un utilizzatore, poi di nuovo a una certa fonte, si ha una certa dissipazione dovuta al rendimento. Quindi convertire l'energia cinetica in energia elettrica all'interno di una batteria e nuovamente in energia cinetica ha un costo, vale a dire non riesco a recuperare tutta l'energia che ho a disposizione inizialmente. A proposito di energia, un problemino interessante è se vi fate un conto, potete farvelo ora io qua, diciamo vi do già il risultato, però potreste tranquillamente calcolarvelo da soli e dire bene, ma quando io faccio benzina al distributore con la mia auto, se ho un serbatore di 50 litri, quanta energia potenziale chimica in questo caso sto inserendo nel veicolo, ne sto inserendo tanta, perché se io conosco il potere calorifico della benzina, cos'è? E quanta energia riesco a produrre con un chilo di benzina, ok? Conosco i dati relativi al serbatoio, calcolo la mia energia che quella che introduco con un pieno di benzina, ad esempio, è circa uguale a 400 kilowattora. Quanto sono 400 kilowattora? Un ingegnere deve averci un po' di cognizione dei numeri, ovviamente per adesso per voi può essere un po' difficile, però provo a quantificarvele io in maniera tale che appunto poi un ingegnere riesca a parlare con i numeri sostanzialmente. 400 kilowattora, quello che io introduco con un pieno di benzina in un minuto, il tempo che ci vuole a fare benzina, equivale all'energia immagazzinata in 800 batterie appunto dell'auto stessa, classica, quella al piombo, e equivale a 50.000 volte l'energia immagazzinata nella batteria di un cellulare. L'energia, come sapete, se la divido per il tempo, ottengo la potenza. Bene, io come detto, se faccio rifornimento in, ad esempio, un minuto, quanto ci metto? Un minuto, un minuto e mezzo, due, facciamo il conto con un minuto, inserisco nel serbatoio una quantità di energia chimica potenziale pari a questo valore che avevo trovato, bene, divido questa energia per il tempo e trovo la potenza che ho, diciamo, utilizzato fondamentalmente, c'è la potenza equivalente con cui è stata introdotta questa benzina. Non vuol dire che la pompa del benzinaio richiede tutta questa potenza, ma è quanto effettivamente riesco, quanta energia metto nel tempo all'interno del veicolo. Bene, sono circa 25 megawatt. Quanto sono 25 megawatt? Di nuovo, tanto per aver cognizione dei numeri, sono circa la potenza che riescono ad erogare 8.000 contatori che abbiamo a casa ed è un centesimo della potenza che riesce ad erogare una centrale elettrica molto grande. Con l'auto elettrica che succede? Vi siete mai chiesti queste colonnine che troviamo a volte per strada quanta potenza riescono ad erogare? Bene, erogano, ci ne sono di vari tipi, quelle più diffuse erogano circa 22 kilowatt di potenza, cioè un millesimo di quella potenza equivalente, diciamo, che avevamo calcolato con il ragionamento della benzina. Quindi il tempo che io impiego per mettere una certa quantità di energia nel mio veicolo, che sono 60 secondi, per metterci la stessa quantità di energia con la mia colonnina elettrica, mi ci vorrebbero 17 ore. Quindi attenzione che passare da una fonte di energia all'altra pone dei problemi. Non sto dicendo che uno è migliore, uno è peggiore, anzi è certamente migliore l'elettrica e quella sarà la direzione in cui andremo con il tempo. Però ci sono molte problematiche. Ci sono molte problematiche anche relativamente a quanta energia riesco a mettere dentro alle batterie, perché ad esempio qui sulla destra c'è una foto della batteria della Tesla, una delle auto elettriche più prestanti. Bene, questa batteria è grande quanto tutto il pianale dell'auto e ha una massa di circa 500 chilogrammi, circa 10 volte la massa del serbatoio di un'auto. Quindi questo effettivamente è un problema che deve essere affrontato, perché mettere delle batterie così grandi ovviamente aumenta la massa del veicolo e quindi aumenta l'energia che è richiesta per muovere questo veicolo. Quindi fondamentalmente è un circolo che si chiude su se stesso. Bene, ma quando è che appunto fatta qualche considerazione di energia, un'auto inquina e, diciamo, consuma e inquina l'ambiente? Lo inquina in due fasi fondamentalmente. Di solito si fa un'analisi che va dal pozzo alla ruota. Well significa pozzo, in inglese will significa ruota. Bene, questa che cosa significa? Che io estraggo una certa quantità di energia da, ad esempio, un pozzo petrolifero, oppure potrebbe essere delle pannelli solari, delle paleoliche. E poi ci sono tutti dei costi energetici, proprio di consumo di energia, legati al fatto che questa energia la immagazzino da qualche parte, la devo spostare, la devo convertire. Insomma, questo fatto, questa conversione di energia dal pozzo al serbatoio, perché tank significa serbatoio in inglese, produce una certa emissione di energia, di, scusate, di inquinamento, ad esempio di CO2. E poi avrò un'ulteriore emissione di CO2 quando dal serbatoio vado alle ruote. Qua c'è un confronto preso da appunto una fonte che qua sotto è riportata, potete andarvela a cercare, di quanto appunto le varie tecnologie di veicolo, ad esempio alimentata a benzina, diesel, ibrido, pure elettrico, pure alimentata a gas naturale, emette anidride carbonica nell'ambiente, nelle varie fasi. Vedete che appunto la parte gialla è quella che riguarda l'anidride carbonica emessa durante il funzionamento del veicolo, che nel caso di un veicolo elettrico è nullo, però attenzione, un veicolo elettrico non è vero che non produce assolutamente CO2, perché per generare l'energia elettrica che vado a mettere nella batteria, a monte qualcosa succede e questo qualcosa che succede emette anch'esso anidride carbonica all'interno dell'atmosfera. Quindi attenzione, non tutto è così semplice come a volte sembra e come spesso si sente raccontare magari in tv. Inoltre, un'altra cosa, io vi do qualche suggerimento e chi magari poi è interessato può approfondire, un'altra cosa interessante è capire anche quanta anidride carbonica si emette per costruire un veicolo, perché magari per fondere un pezzo di metallo con cui faccio la mia carrozzeria c'è bisogno di energia e quanta energia, quanta CO2 si emette nel momento in cui devo andare a smaltire i componenti del mio veicolo, in particolare ad esempio per i veicoli elettrici ci sono molti studi riguardo come smaltire in maniera efficiente le batterie. Quindi attenzione che quello che spesso e volentieri viene proposto come soluzioni semplici in realtà sono ben complesse. L'ingegneria cosa fa? L'ingegneria aiuta a capire in maniera quantitativa e analizzare in maniera oggettiva queste problematiche. Un'ultima cosa riguardo i veicoli elettrici, poi passiamo ad l'energia e i veicoli, poi passiamo ad altro. Quante auto ci sono oggi in Italia? In Italia oggi ci sono circa 37 milioni di auto di varia tipologia. Supponiamo che domani tutte queste auto diventino elettriche e supponiamo che la notte il 15% di queste auto elettriche venga messa sotto carica collegandole a queste colonnine che supponiamo qualcuno abbia installato su tutto il territorio nazionale, che siano sufficienti. Bene, la potenza richiesta per ricaricare un sesto, il 15% di tutte le auto se fossero elettriche è pari a 122.000 megawatt. 122.000 megawatt è sostanzialmente la potenza massima della rete elettrica installata in Italia negli ultimi anni. Vale a dire tutte le fonti di energia elettrica in Italia assommano a una produzione di energia, oltre a quella importata anche dall'estero, pari a poco più di 120.000 megawatt. Quindi se facessi questa cosa qua in un giorno mi troverei che sì ricarico un sesto dei veicoli ma probabilmente non riesco più a accendere le luci di casa o non riesco a tenere accessi i macchinari negli ospedali o a far funzionare le fabbriche durante la notte, durante il giorno, insomma a seconda della distribuzione di richiesta. Quindi attenzione che cambiare il sorgente di energia introduce dei problemi che non sono minimamente trascurabili. Quindi io intanto con questa parte concludo, vi suggerisco tra l'altro un altro seminario all'interno di questa campagna di seminario Ingegnari per il Futuro. Se volete andarvelo a vedere è tenuto dal professor Ceraolo che parla appunto di veicoli elettrici e approfondisce ancora di più queste questioni che io ho appena accennato giusto per fare una panoramica generale sui veicoli. Quindi come concludiamo questa parte? E attenzione, dobbiamo iniziare a ragionare con una mente che è un po' diversa da quella del cittadino comune. Si sente dire tante cose, diciamo buttate in qualche modo, i famosi discorsi da bar. Purtroppo ci sono tantissime fake news che escono tutti i giorni. I social spesso e volentieri non ci aiutano. Quindi attenzione, quello che Ingegnaria fa è darvi una mentalità critica. Una mentalità critica che porta a risolvere determinati problemi e a proporre soluzioni innovative. Però attenzione, quel che si fa qua dentro, che per chi magari non è di pisa non sa cos'è questo edificio, è la facoltà di ingegneria. È basato su una serie di fondamenta che sono fondamenta legate alla matematica, alla fisica, alla tecnica, allo studiare quel che hanno fatto gli altri, a fare simulazioni, a fare esperimenti. Bene, quindi parlato di energia, andiamo avanti e vediamo un po' qualche altro tema legato ai veicoli sempre. In particolare, si è parlato di massa di un veicolo, si è detto bene, ma io quando devo muovere un veicolo dissipo potenza, dissipo energia, ok? a seconda se la guardo nel tempo oppure istantaneamente e questa è legata di solito alla massa del veicolo. Quindi un'idea che viene è bene, ma io quanto più riesco a farvi leggero un veicolo, tanto meno consumerò, ma tanto meno consumerò, significherà anche tanto meno inquinerò il mio ambiente. Quindi, quali sono i materiali che sono usati per costruire un veicolo? Ad esempio abbiamo le leghe di acciaio, leghe di acciaio che hanno un costo basso, che è una cosa positiva, sono resistenti, però sono pesanti, hanno una densità elevata, quindi una massa per unità di volume elevata. Sono abbastanza semplici da lavorare e riguardo queste sappiamo molto. Know-how cosa vuol dire? Know-how è la conoscenza che tecnicamente si ha di una certa tecnologia, quindi effettivamente degli acciai sappiamo molto. Ci sono quegli allumini, gli allumini sono qualcosa di più, che ha un costo un po' più alto degli acciai, non elevatissimo, hanno una resistenza però più bassa, però hanno un peso, una massa per unità di volume più elevata, più bassa, quindi sono più leggeri fondamentalmente a qualità di volume. Sono facili da lavorare e se ne sa abbastanza. Poi abbiamo le multilega, ad esempio ultimamente molti telaio di veicolo sono prodotti mettendo insieme parti di acciai e parti di alluminio e hanno ovviamente proprietà intermedie rispetto a quelle delle due leghe viste precedentemente. Ci sono poi i cosiddetti compositi, ad esempio la fibra di carbonio, che hanno un costo molto elevato, hanno un'elevata resistenza, hanno una densità bassa, quindi pesano poco, però non sono facili da lavorare, soprattutto la loro lavorazione non è facile da automatizzare. Ne sappiamo abbastanza, ma non tanto, ad esempio, quanto sappiamo riguardo agli acciai. Quindi, come vedete, le soluzioni in ingegneria ce ne sono tante, i pro e i contro stanno a volte da una parte, a volte dall'altra. Come vedete, com'è che un ingegnere ha ragione? Un ingegnere si guida attraverso delle mappe, mappe di materiali, fassone in inglese, e questa è una cosa importante, dovete metterli in testa, che spesso, diciamo, nell'ingegneria tante cose vanno, diciamo, analizzate in una lingua comune a tutti gli ingegneri del mondo, che almeno al momento è l'inglese. Ci sono tabelle, ad esempio, che mettono insieme grafici che mostrano la resistenza in funzione della densità dei vari materiali. Ci sono, ad esempio, in questa zona i compositi, che appunto hanno densità bassa e resistenza alta, gli allumini, gli acciai, ma ci sono gli stessi grafici che mettono insieme, su un piano, la resistenza in funzione del costo. Quindi, solitamente, detto in maniera molto rapida, quello che è molto resistente, però costa anche assai, soprattutto quello che è molto resistente e anche leggero, ha tipicamente un costo molto elevato. Quindi, vediamo un po', facciamo un esempio semplicissimo di come si potrebbe scegliere il materiale per una data applicazione. Supponiamo, ad esempio, tanto per rimanere nel veicolo, di pensare a un gancio di traino di un'auto. Un gancio di traino, alla fine, cos'è? È una barra, una barra cui applicata una certa forza. Sapete cos'è una forza? Si misura in newton. Supponiamo mille newton per dire un numero. Io voglio determinare il diametro di questa barra e andare a vedere quanto deve essere grande e quanto mi costa a seconda del materiale che scelgo. Introduco un concetto che vedrete più avanti, ovviamente non è che qua voglio insegnarvelo, però per sapere, per dimensionare, si dice, cioè per scegliere la dimensione di un componente, io vado a misurare la sua sollecitazione. Sollecitazione cos'è? È la forza per unità di area a cui soggetto questo materiale. Quindi io divido la forza per l'area di questo cerchio, di cui però non so ancora il diametro, devo trovarlo. Bene, come lo posso fare? Posso fare d'alluminio, d'acciaio e di titanio, ad esempio, per citare tre possibilità. Bene, le densità sono diverse. Se l'acciaio è più pesante, l'alluminio è più leggero a parità di volume, il titanio sta nel mezzo. Questi materiali sostengono una sollecitazione massima che è diversa per ogni materiale. Quindi io cosa devo fare? E hanno anche costi diversi, scusate, l'acciaio costa molto poco, il titanio costa molto. Supponiamo di dover fare un milione di questi componenti e quindi io vado a fare il dimensionamento di questo, fidatevi, che cosa significa? Significa trovare il diametro per cui la tensione, quella sollecitazione che è soggetto a questa barra, è più bassa della sollecitazione massima che il materiale può sopportare. Bene, determino il diametro di queste tre tipologie di materiale scelto. 2 mm e 1 per l'alluminio, 1,5 per l'acciaio, 1,2 per il titanio. Che massa hanno? L'acciaio è più pesante, il titanio è ben più leggero, l'alluminio sta nel mezzo. Quanto costano? Per farne un milione, in acciaio mi ci vogliono 35.000 euro, in titanio mi ci vuole più di un milione. Per l'alluminio ci vogliono circa una via di mezzo, orientativamente, non proprio nel mezzo però, non proprio la media, però nel mezzo tra le due. Quindi che faccio? Sta proprio qui il lavoro di un ingegnere. Un ingegnere deve capire qual è la soluzione giusta anche in base all'applicazione. Se voglio ad esempio fare un escavato core, andrò sull'acciaio, costa poco, è molto pesante, non è un problema. Un'auto di media fascia, utilizzerò l'alluminio. Un'auto da competizione, che deve essere leggera, va bene, spendo di più, ma utilizzo il titanio. Bene, questa cosa qui io ve l'ho fatta in un esempio semplice, ma si fa anche sui componenti molto più complessi. Questo è il portamozzo di un'auto. Queste qua sono delle simulazioni, cioè si va a vedere con dei software, con dei programmi, quant'è la sollecitazione, quella che si è vista prima per la barrettina, qui è per un componente più complicato, in funzione dell'uso di questo elemento, che è quello che regge una ruota di un veicolo. Poi si possono fare anche ottimizzazioni di alcuni pezzettini piccoli di questi elementi. Ok, questo che vi sto mostrando è il risultato di una tesi di laurea di un ragazzo, diciamo, poco più grande di voi, qualche anno fa, che appunto, come molti altri, ha progettato pezzi che poi sono andati sopra il veicolo della nostra macchina da corsa. Ci viene da chiedersi, ma fa tutto da solo il computer in questo caso? Assolutamente no, l'ingegnere deve sapere cosa sta facendo e sapere impostare i giusti parametri per ottenere risultati sensati e sapere analizzare questi risultati. Come sapete, appunto, questo qua, i risultati della progettazione si vedono anche su cose di altissimo livello, quale ad esempio è Formula 1. Confrontate l'ala di una Formula 1 di 30 anni fa con quella di oggi, è molto più complessa. Perché? Perché, diciamo, c'è molta più possibilità di fare simulazioni e di poter provare molte soluzioni diverse in poco tempo. Però le simulazioni da sole non bastano, c'è bisogno anche di fare della sperimentazione, di fare degli esperimenti che vanno a provare, a testare i componenti durante il loro funzionamento. E quindi ci sono, diciamo, gli ingegneri che si occupa anche della progettazione e dell'analisi di grossi banchi prova in cui sollecito i vari componenti e vado a vedere, appunto, quanto durano, come funzionano soluzioni differenti nello stesso componente e così via. Abbiamo parlato fino a ora di progettazione, ma poi questi componenti vanno fatti. Come si fanno? E anche qui ci sono tante tecnologie, come visto per i materiali, anche qui ci sono i pro e i contro. C'è la fusione. La fusione in cosa consiste? Nel prendere, diciamo, del materiale metallico liquido e colarlo all'interno delle forme prestabilite. Cioè facciamo, per esempio, i carter. Bene, questa cosa è utile per pezzi che hanno forma medio-semplice, richiede tanta energia e necessita di lavorazioni successive. C'è poi lo stampaggio. Tutte queste parti qua sono cose di cui si occupa un ingegnere, adatto per la mera e sottili, quale, ad esempio, la portiere delle auto. C'è poi l'asportazione di truciolo, che è la tornitura, la fresatura. Chi magari viene all'instituto tecnico ha presente di cosa sto parlando. Gli altri potranno tranquillamente, diciamo, approfondirlo, se vorranno iscriversi a ingegneria, con cui ci facciamo componenti più complessi. Alcuni di voi saranno appassionati anche di additive manufacturing. Qualcuno c'era la stampante 3D a casa. Bene, questa è una tecnologia che effettivamente ti sta facendo anche nel mondo della produzione reale. In cosa consiste? Anziché generare un pezzo andando, partendo da un pieno e rimuovendo materiale come funziona l'asportazione di truciolo, andiamo invece a fare il contrario, a partire da nulla e aggiungere pian piano, strato su strato, del materiale. Questo lo sapete bene se avete la stampante 3D per la plastica, ma questa ad oggi inizia ad essere funzionante anche per l'acciaio, per materiali metallici in generale. Cosa che ovviamente è complessa e è un campo di studio ingegneristico degli ultimi anni che è molto molto interessante, che però ancora deve essere affrontato. Quindi anche qui non è che una nuova tecnologia è pronta e viene usata, ma c'è bisogno di studi, di innovazione e di fare i passi dovuti per iniziare a utilizzarla. Quindi in funzione, ad esempio, del numero di componenti da produrre o della loro complessità, io posso scegliere la tecnologia a me più adatta, sempre guardando a che cosa ha i costi per realizzare le mie varie, i miei vari componenti. Quindi se devo fare pochi componenti, sceglierò determinate tecniche, se ne devo fare tante, ragionerò in maniera differente. Appunto, stavamo parlando di produrre dei componenti, bene, dove si producono? Nelle industrie. Avete sentito parlare probabilmente dell'industria 4.0. Che cos'è? Tanti pensano che sia l'industria robotizzata. In realtà questa c'è già, è la Terra, è l'industria 3.0, è stata dagli anni orientativamente 70-80 che esiste. La industria 4.0 è un'industria che è un'industria intelligente, che ha delle macchine che sanno parlare da sole, sanno prendere delle decisioni da sole. Facciamo un esempio, supponiamo di voler produrre due tipologie di auto su una stessa linea. Ogni tipologia di auto ha un sacco di varianti, ad esempio per quanto riguarda il motore, la scocca, la verniciatura, le portiere, gli interni e così via. Io ho un certo flusso, una certa programmazione di questa produzione che mi fa uscire una macchina alla volta con caratteristiche diverse. Ora supponiamo che ci sia un inconveniente. Un problema di fornitura, quale quello di cui abbiamo visto testimonianze negli ultimi giorni. Supponiamo che sulla mia nave, intraversata sul canale di Suez, fosse contenuto la benzina e la vernice che serviva per verniciare dei blu le mie auto. Bene, l'industria 4.0 cosa fa? Capisce che manca un certo elemento per produrre la mia auto e di conseguenza ripensa tutta la produzione, fermando quelle parti in cui è coinvolto quell'elemento e mandando avanti le altre in maniera autonoma e intelligente. Altro tema sempre legato ai veicoli, la sicurezza. La sicurezza, avete visto l'anno scorso cosa è successo in Formula 1 e vedete purtroppo ogni giorno testimonianze di incidenti. Bene, anche qua riguardo alla sicurezza è importante che l'ingegnere si ponga problemi relativi a come costruire i componenti. Devono essere resistenti ma devono anche deformarsi perché deformandosi dissico energia e in più devo fare delle strutture estremamente resistenti delle celle di sopravvivenza dove stanno dentro le persone che devono sopravvivere all'urto. Quindi anche qui di nuovo, ingegneria è compromesso d'utilità versus contro la resistenza, cioè quanto un materiale si può deformare e quanto un materiale è resistente. Sono due esigenze contrastanti, come vedete materiali poco resistenti sono molto duttili, pensiamo alle schiume ad esempio, materiali poco duttili sono molto resistenti. Quindi attenzione qua di nuovo progettazione che richiede forti compromessi. Bene, andiamo verso la fine di questa chiacchierata in cui provate un po' a farvi vedere le problematiche che un ingegnere affronta in un veicolo e vediamo un po', forse molti di voi hanno da poco prezzo la patente o stanno pensando di prenderla, sognano di prenderla a breve. Bene, quando io salgo su un'auto, quali sono le cosiddette human machine interface? Quali sono l'interfaccia tra l'uomo e il veicolo? Sono il volante? Sono il freno? Sono l'acceleratore? Sono il cambio? Bene, questo è un po' quello che io racconto nel mio corso di costruzione automobilistica, attenzione, al quinto anno, cioè al secondo anno della magistrale, quindi non vi racconterò i dettagli, però vi farò vedere come tutti questi componenti siano un insieme di elementi meccanici, elementi elettronici che tranquillamente parlano tra loro e diciamo che in qualche modo si aiutano e che l'ingegnere deve progettare in maniera, deve progettare insieme fondamentalmente, con cooperazione tra le varie anime dell'ingegneria. Ovviamente quello che abbiamo visto è cosa c'è dentro un veicolo, però sappiamo che presto andremo verso la guida autonoma. Totalmente, forse questo presto non sappiamo bene quanto è, a seconda delle analisi, ven detto prima o dopo. Bene, cerchiamo di capire attraverso la meccatronica anche cosa cambia. Cos'è la guida autonoma? La guida autonoma è una possibilità di utilizzo dei veicoli che in qualche modo lascia alcune funzioni della guida del veicolo a sistemi intelligenti. Ci sono vari livelli di autonomizzazione della guida, ve li lascio qua come spunto, potete eventualmente approfondirlo, cioè guida autonoma non significa che il veicolo va sempre e comunque da solo, a seconda del livello che considero, ci sono vari livelli di automazione. E la guida autonoma pone dei problemi di un certo spessore, non solo ingegneristici, ma anche ad esempio informatici, cioè nel momento in cui dei veicoli comunicano tra loro, attenzione, c'è la possibilità che qualcuno cerchi di entrare all'interno della rete di comunicazione e di fare del cosiddetto ciberterrorismo, oppure quindi di boicottare, di deviare i veicoli, cercare di creare anche, diciamo, di essere dei danni alla società e alle persone. Ma poi ci sono anche delle problematiche di natura etica, cioè nel momento in cui io programmo la mia logica che controlla il veicolo, se mi trovo in una situazione in cui devo scegliere se far investire delle persone o andare a far andare la macchina a sbattere e quindi danneggiare, diciamo, rischiare di far del male o uccidere le persone che sono a bordo. Che cosa scelgo? Queste sono problematiche etiche, sono problematiche assicurative, sono problematiche giuridiche in cui l'ingegneria può dare il suo contributo, ma non è sufficiente da sola. Questo come cenno, ma torniamo alla meccatronica e con questo concludiamo. Vediamo cosa scelge tra i vari componenti. Cosa c'è dietro al volante? Dietro al volante c'è il cosiddetto sistema di sterzo. Sistema di sterzo che è una serie di elementi che fanno sì che quando io ruoto il volante faccio muovere un elemento trasversale della cosiddetta cremagliera, qui sono connesse le ruote, che qui non sono rappresentate, però questo tirante di sterzo è poi connesso alle ruote. Su tutti i veicoli ad oggi è presente il cosiddetto servo sterzo. Questo servo sterzo, anche questo, non c'è di una sola tipologia. Le soluzioni ingegneristiche sono sempre molte, sono sempre plurali. C'è elettrico e c'è idraulico. Come funziona? È in maniera non molto complessa e ne avete, diciamo, un riscontro anche sulle auto più semplici. Qualcuno, se avete, diciamo, veicoli Fiat, avete il tastino City con cui potete cambiare l'assistenza durante le manovre di parcheggio. Cosa fa questo tastino City? Va a comandare questo motore elettrico attraverso una cosiddetta mappa. Una mappa che tiene conto della velocità del veicolo, di quanto il guidatore sta applicando una certa coppia al volante, quindi con che forza lo sta muovendo in qualche modo, e quindi decide quanto il motore elettrico lo deve aiutare. Questa, ragazzi, è una superficie, una funzione di due variabili, ok, che studierete a matematica e che già state studiando probabilmente alle scuole superiori in una sola variabile. Bene, l'applicazione dietro a un sistema complesso, quale il servo sterzo, si basa su semplici funzioni matematiche. Vediamo qualche altro componente. Dietro al freno cosa c'è? Dietro al freno c'è il cosiddetto servofreno. Servofreno è un elemento in cui c'è una membrana che, a seconda della pressione che sta all'interno di un serbatoio, io posso cambiare, ovviamente non entro nel dettaglio, la pressione da un lato e dall'altro del serbatoio e questa membrana si muove e mi aiuta nella frenatura. Su cosa si basa? Si basa su una semplice considerazione di fisica, cioè io ho un pistone con una certa pressione da un lato e una certa pressione dall'altro. Se queste due pressioni sono uguali, il pistone sta fermo nel mezzo. Se io riesco a aumentare la pressione da una parte, dal lato destro, aumenta la forza che è la pressione per l'area che agisce sulla mia membrana da destra e quindi ho un aiuto nella frenata del veicolo. E l'acceleratore? L'acceleratore anche esso può essere automatizzato. Normalmente abbiamo il pedale, una serie di leve, un cavo, cosiddetto cavo Boden, quello che c'è anche sui freni delle biciclette, che va a muovere il corpo farfalla, la valvola che decide quant'area e quindi benzina di conseguenza far entrare in un motore. Bene, lo posso automatizzare questa cosa? Sì, certo, posso tranquillamente mettere un sensore di posizione sul pedale, un motore elettrico sul corpo farfalla e quindi far sì che quando io schiaccio il pedale il sensore misura di quanto lo sto schiacciando e il motore elettrico fa muovere la mia farfalla. La cosa interessante di un sistema di questo genere è che io posso cambiare la legge che lega l'angolo del pedale all'angolo della farfalla, di cui ruota questa cosiddetta farfalla, questa valvola che decide quant'area entra all'interno del motore. E questa appunto, la maniera in cui queste due cose sono legate, mi conferisce di varie tipologie di guida, ad esempio posso selezionare dal mio cruscotto se voglio un comportamento di tipo del veicolo adatto al funzionamento urbano, oppure più legato al comfort, oppure ad un comportamento più sportivo, più reattivo. Ci sta dietro delle funzioni, funzioni matematiche che legano appunto queste due grandezze. Idem anche per il cambio, cambio tradizionale per il guidatore cos'è? È la leva del cambio che c'è nel veicolo. Per l'ingegnere è una cosa ben più complessa, è una serie di ingranaggi molto molto complessi che appunto devono essere dimensionati e devono essere appunto progettati in dettaglio. Questi due elementi sono legati tipicamente ad una serie di leveraggi, ok? Nei cambi tradizionali, ci sono tante leve che fanno sì che quando muovo la leva del cambio io vada a selezionare la marcia che voglio andare a innestare. Qua c'è riassunto praticamente quello che ho appena detto. E come funzionano i cambi automatici? I cambi automatici, appunto, l'interfaccia del cambio automatico sono i pedal che ci sono dietro al volante oppure il mio pomello del cambio che lo metto in posizione drive e che fa cambiare le marce da sole. Ma come funziona? Non siamo molto distanti dal cambio tradizionale. I soliti ingranaggi ci sono. Ci sono di varie tipologie ovviamente. E poi che cosa ho? Non ho più la serie di leveraggi che mi collega la leva agli ingranaggi stessi, ma ho dei motori elettrici anche in questo caso. E quindi io posso, andando a premere sui peddolo attraverso una logica automatica che mi decide quando cambiare, andare a selezionare le marce che sono più opportune per il funzionamento del veicolo. Esiste un solo tipo di cambio automatico? Assolutamente no. Come in tutte le cose in ingegneria, come avete visto, ci sono moltissime soluzioni. Non esiste il meglio assoluto, non esiste il peggio assoluto. Ci sono tante cose da tenere di conto, tanti compromessi da dover affrontare. Cambio automatico, un tipo di cambio automatico ce l'avete sui vostri scooter, chi ha lo scooter. Il cosiddetto CVT, Continuous Variable Transmission. Sono sempre più in voga in Europa i cambi a doppia frizione. Anche essi sono cambi automatici, che quindi sembrerebbe che la meccanica centri fuoco, in realtà sono sistemi meccanici molto complessi. Oppure i cosiddetti cambi automatici tradizionali, che sono sulle vetture, soprattutto negli Stati Uniti, fin dal 1930, quasi un secolo fa. E i cambi automatici sono presenti anche sulle auto ibride. Ci sono degli ingranaggi che vanno a legare il moto del motore e a combustione al moto del motore elettrico. Quindi inizio un po' a rispondere, spero lo intuiate, a quello che dicevo all'inizio. Non è che con i sistemi elettrici, con la meccatronica, la meccanica scompare. Un ultimissimo tema, giusto per farvi vedere quante cose ci sono dentro a un veicolo, sono solo alcune queste qua, le sospensioni che determinano il comfort. Come è fatta? Il comfort è la tenuta di strada di un'auto. Come è fatta una sospensione classica? Una molla, un ammortizzatore, degli elementi cosiddetti braccetti che fanno muovere la ruota. Però questa è una sospensione passiva, cioè che praticamente una volta che ho scelto i componenti, ha un certo comportamento. Se ora io voglio andare a far sì che il comportamento della sospensione possa cambiare a seconda del funzionamento, ad esempio voglio un asset più sportivo, un asset più confortevole, posso usare sospensioni cosiddette semiattive. Su queste sono sospensioni in cui sono presenti dei fluidi che possono magnetizzarsi, cosiddetti fluidi magnetoreologici, la cui viscosità cambia in funzione del campo magnetico che è presente all'interno del fluido. Quindi di nuovo meccanica, elettronica e sistemi elettrici stanno insieme per andare a ottenere delle funzioni complesse sul veicolo. Esistono poi anche le cosiddette sospensioni attive, qua c'è un esempio di un Audi, trovate dei bellissimi schemi sul sito Audi delle loro soluzioni, in cui sono presenti dei motori elettrici che vanno a muovere le sospensioni, ad esempio cambiano, che so, l'altezza da terra del veicolo. Quindi come vedete l'elettronica e la meccanica vanno sempre a braccetto e quanto più una si porta avanti, tanto più l'altra riesce a trovare delle soluzioni interessanti per migliorare il funzionamento, in questo caso del veicolo, però in generale dei sistemi meccanici e dei sistemi ingegneristici in genere. Concludendo quindi, cosa chiedevo all'inizio? Io l'ho chiesto nel 2004, ma me lo chiedo ancora e forse spero di avere un po' risposto. Nel 2021 ha ancora senso iscriversi a ingegneria come ho fatto io ad esempio meccanica? Probabilmente sì, direi di sì. Come viste le materie ingegneristiche danno risposte quantitative a problemi attuali, interessanti, quindi se avete un interesse di questo genere partite bene. Le conoscenze tecniche non danno però risposte univoche, nel senso che determinano cosa è meglio in assoluto, ma danno tante soluzioni che possono essere scelte sulla base di compromessi. La multidisciplinarità è un requisito ovviamente fondamentale, e quello che oggi è un limite per voi ingegneri del futuro è uno stimolo per innovare e per inventare cose nuove. Quindi l'ingegnere deve mettersi in la testa che dovrà continuare a formarsi per tutta la sua carriera e a innovare lo stato della tecnica per tutta la sua vita fondamentalmente. Ultima cosa però, arriva la doccia fredda purtroppo in qualche modo, ma quando mi scrive ingegneria, se voi vi scrivete a settembre e vi mettete sui banchi di ingegneria, iniziate subito a progettare auto, motori, aerei, robot, pannelli solari, quello che più vi piace. Purtroppo no. Purtroppo non è così perché per arrivare a progettare questi sistemi complessi c'è bisogno di un profondo studio delle materie di base, dello studio di materie tecniche che vanno appunto a dettagliare più nello specifico il funzionamento dei singoli componenti, ma anche il funzionamento di base, la scienza delle costruzioni, la tecnologia, la meccanica applicata, ce ne sono qui, ho parlato lato meccanica, l'elettrotecnica e così via. Quando c'è questo forte background, allora si può iniziare a pensare di progettare soluzioni innovative, interessanti, tecniche, divertenti, che è quello che alla fine una persona si propone di fare nel momento in cui appunto alla vostra età sceglie un percorso per il proprio futuro. Quindi io con questo vi ringrazio, rimane forse qualche minuto per dare una lettura alle domande e vi auguro un in bocca al lupo e spero quelli che risultano interessati a queste cose di vederli da qualche anno durante i corsi. Che cosa faccio io nel mio lavoro? Io sono ricercatore in ingegneria, sono ricercatore e mi occupo di alcuni di questi temi, ad esempio mi occupo di simulazione di veicoli, mi occupo quindi di simulazione di componenti di veicolo, del test di questi componenti, se si rompono, se non si rompono, quando si rompono e perché si rompono. Questa è una delle mille cose che un ingegnere può fare. Fra quanto, ecco, domanda molto complessa, fra quanto tempo vedremo la maggior parte delle persone con auto elettriche? Questo non è facile rispondere, la prospettiva è quella di andare verso una forte elettrificazione, però come visto ci sono delle problematiche anche di infrastruttura generale molto forti che effettivamente debbono essere superate, quindi una grossa diffusione nei prossimi dieci anni ci sarà, arrivare al 100% è una sfida molto molto ardua e probabilmente richiederà molti anni e richiederà una sorta di rivoluzione energetica al fine di avere una produzione di energia pulita e che però riesca ad avere quantità di energia prodotta molto molto elevate. Vado avanti con qualche altra domanda. In quanto tempo cambierà il prodotto dell'auto? Queste sono cose molto difficili, ragazzi, da rispondere. Vi vorrei far vedere alcuni libri di 10-15 anni fa che ipotizzavano che nel 2020 avremmo avuto il 100% di veicoli elettrici o che ipotizzavano che, che so, ho parlato di cambi manuali, che i cambi manuali sarebbero scomparsi. Ci sono ancora. Non è che questi libri dicessero falsità, però ovviamente le variabili sono molte, i problemi sono molto complessi, quindi riuscire a dare le risposte univoche è difficile. Quello che si può fare è, ognuno nel suo settore, cercare di portare dei piccoli passi di innovazione e non far mai, cosa importante dell'ingegneria, il passo più lungo della gamba, come si suol dire. Quindi andare per piccoli passi e anche appunto in settori di così grande produzione come i veicoli, prima di introdurre un'innovazione si deve essere ben certi che questa funzioni, perché una campagna di richiamo ha un costo sia economico ma anche di immagine per un'azienda perché un prodotto non ha funzionato, è enorme. Quindi quello che magari viene provato a livello di test all'interno di un'azienda probabilmente verrà messo in produzione tra molti anni, perché a seconda della sua complessità si vuole essere sicuri che questo non crea problemi. Vedo molte domande su autoelettriche, vi consiglio di seguire di nuovo il seminario del professor Ceraulo che già c'è stato ma che troverete poi su YouTube nel momento in cui verranno pubblicate. certamente ci saranno più risposte, visto che tratta unicamente di questo tema, è ovviamente docente di veicoli elettrici estremamente competente, quindi vediamo qualche altra domanda che non sia sull'elettrico. Ecco, una domanda, lavora presso un'azienda oppure ricercatore dell'università? Come già detto, sono ricercatore presso l'università, però attenzione, l'università ad oggi, e già da diversi anni, è in stretta collaborazione con le aziende. Ovviamente non posso qua citare le aziende con cui collaboriamo per motivi spesso di riservatezza, però ecco, teniamo presente che quello che noi raccontiamo nelle nostre lezioni, spesso e volentieri, è frutto di esperienze che vengono fuori da appunto collaborazioni con le aziende, quindi è un continuo confronto con chi le cose le fa tutti i giorni, mentre magari all'università siamo più portati a raccontarle e analizzarle nel profondo, però ovviamente questo continuo scambio di opinioni e di conoscenze porta all'arricchimento sia lato università sia lato azienda. Quindi io ritengo che il tempo a disposizione si sia esaurito, quindi ringrazio di nuovo innanzitutto i ragazzi che hanno seguito, io sono convinto che per tanti sia stato un po' pesante, non dovete aver capito tutto, tranquilli, solo per stimolarvi, spero di avervi fatto un po' capire quel che si fa, io alla vostra età non ne avevo idea, spero in qualche modo di avervi dato una mano in questo. Quindi io vi ringrazio e ringrazio la Scuola di Ingegneria per questa campagna molto interessante di seminari e vi saluto e eventualmente ci rivediamo tra qualche anno con coloro che vorranno iscriversi. Buona giornata e grazie.